I lavori sono stati già consegnati all'impresa che è già iniziato la fase di espropri, la fase di picchettamento e per quanto riguarda tutto il resto. Il sindaco di Manopello, Giorgio De Luca, insiste sui vantaggi che tessuto urbano e comunità di Manopello Scalo avrebbero nella realizzazione della megaprogetto di raddoppio della linea Pescara-Roma e spiega che a convincerlo rispetto alle iniziali perplessità è stata principalmente l'impossibilità di percorrere strade diverse dal progetto iniziale presentato dai tecnici RFI e in secondo luogo il fatto di essere riuscito a ottenere per il quartiere di Manopello Scalo interessato da una raffica di espropri di case che dovranno essere abbattute delle migliorie che rappresenteranno una svolta e garantiranno un salto di qualità in termini di arredo urbano e di abilità. Sì, gli abbattimenti ci sono, purtroppo ci dispiace per quelle famiglie che stanno o dovranno a breve lasciare casa per quello che ne so io RFI sta trattando bene queste famiglie, nel senso che stanno parlando e stanno ottenendo anche dei buoni prezzi a livello commerciale quindi la cosa si sta abbastanza abbassandoci, non sono quelli che oggi protestano gli espropriati ma bensì questo comitato che fanno finta di non capire che il raddoppio purtroppo si farà nel centro di Manopello. Abbiamo provato a contattare alcuni dei cittadini ai quali verrà espropriata la casa e non sembrano poi così convinti dei benefici. Sono andato a chiedere all'informatore suo, anziché di 1200 euro al metro quadro daranno 1100 perché i materiali sono abbassati. Adesso mi viene espropriato, non so ancora il valore che mi daranno ma ritengo ridicolo che non ci compro manco il sito per rifarci una casa. Il dramma è che non c'è un posto simile a quella casa lì a cui io sono affezionato e voglio stare lì e nessuno mi caccerà come anche tante altre persone. Voi pensate sono 85 famiglie buttate fuori di casa col progetto iniziale, più altre 15 con le famose migliorie. 100 famiglie, più di 300 persone in mezzo alla strada. Mi devono dire dove vanno a finire queste famiglie, ma non ci sono case in vendita, case in affitto o case in costruzione, non ci sono. C'è poi il caso di una signora tornata dalla Germania per acquistare un immobile dove una volta in pensione potrà passare una serena vecchiaia. E proprio di recente ha scoperto che la sua casa è tra quelle inserite solo di recente nel piano esproprio. E' una vergogna distruggere questo paese quando abbiamo l'opportunità di trasferire la ferrovia fuori dal paese. Inoltre per me è anche una vergogna perché si spendono 951 milioni di euro solo per 13 chilometri di raddoppio. Chi ci garantisce che questo progetto venga portato a termine? E allora a mercoledì 23 ottobre di nuovo tutti in piazza per chiedere ancora una volta che venga presa in considerazione la variante Plus. Un progetto non improvvisato dai cittadini ma esistente addirittura dal 1995. Non è un progetto fatto a casa ma è un progetto già presentato dai vecchi sindaci ad RFI con uno studio di fattibilità con un finanziamento che era in fase di approvazione per spostare la ferrovia sul fiume Pescara. E' vero che sono cambiate le leggi, è vero che le sondazioni, è vero tutto, però la comunità sa che la ferrovia doveva andare lì e ha dato parere favorevole all'interporto. L'interporto è stato escluso da questa cosa, non verrà agevolato in nessun modo, verrà semplicemente raddoppiata la ferrovia con la distruzione del paese, con la creazione di barriere e di altre cose obrobriose. E intanto il sindaco De Luca auspica un confronto pubblico tra Confer, Amministrazione Comunale, RFI e Regione per fare definitiva chiarezza. Sarebbe importante fare appunto un tavolo di confronto con RFI, il Comitato, il Comune, la Regione per pianificare Manopello e capire i pregi di tutto quello che può avere questo raddoppio ferroviario fino a Roma. Non ci dimentichiamo che Avezzano sta aspettando questo raddoppio d'anni perché lì sappiamo quanti pendolari vanno a Roma tutti i giorni. È importante per tutto l'Abruzzo che questo vada portato a termine in tempi più brevi possibile. Noi vogliamo un confronto se c'è una soluzione e si parla di variante perché sono dal gennaio 2022 che cerchiamo questi confronti. Casomai, come mai sono arrivati proprio oggi? Quindi vuol dire che forse di qualcosa si può ancora parlare. Si può parlare se si parla di variante e di soluzioni per il territorio, condivise con i cittadini. Mi chiedo come mai adesso vuole questo confronto quando ci ha impedito Nero Su Bianco di partecipare ad altri incontri. Però benvengano, siamo sempre a disposizione, ma che non sia una perdita di tempo e un'altra presa in giro.